Ed eccoci qui a parlare di TikTok. Davvero non potevo più farne a meno perché si tratta del fenomeno del momento. Di cosa si tratta? Sbaglieremmo forse a chiamarlo un nuovo social network. In realtà è una piattaforma per consentire la pubblicazione di video che è amatissima dai adolescenti e dai pre-adolescenti perché c'è un pubblico davvero giovanissimo su TikTok che ne ha decretato il successo ed è questo il motivo per cui ne andiamo a parlare. Si tratta di un'app che ha una valorizzazione attuale superiore ai 70 miliardi di dollari ma soprattutto un pubblico di utenti attivi di 150 milioni ogni giorno. A partita dal cosiddetto lip sync cioè la possibilità di montare sul video un audio sincronizzando il movimento delle labbra e quindi consentendo giochi creativi come ad esempio il doppiaggio di una scena di un film. Ebbene TikTok va evolvendo rispetto a questo schema iniziale e come ci confermano anche i responsabili dell'azienda vuole di più e cioè dare spazio alla creatività degli utenti che sono presenti sulla piattaforma. Ecco questo sembra essere un tratto distintivo. TikTok è il luogo dove possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività e il tutto naturalmente come sempre accade per le piattaforme per farci passare la maggior parte del tempo all'interno della stessa app. Cosa ha escogitato TikTok? Ma intanto una serie di contenuti che direi magnetici. Si rischia di star lì 20 minuti e di veder volar via il tempo senza accorgersi di cosa si è fatto. E poi ancora per farci giocare, devo dire anche per chi non è uno smanettone come me, con la creazione di questi video, tanti tanti tool e anzi ancora altri ne arriveranno per consentire un editing sempre più creativo. Ma d'altro canto la domanda che è lecito farsi è come guadagnerà TikTok con la pubblicità tradizionale? Beh non credo proprio. Questa stessa creatività che viene stimolata nel pubblico degli iscritti a TikTok è infatti un'arma estremamente seduttiva anche per le aziende ed infatti queste sono coinvolte per la costruzione di campagne un po' più raffinate del classico banner che appare in alto e che ormai insomma non seduce più di tanto. Le aziende potranno lanciare delle sfide, degli hashtag challenge, utili a coinvolgere gli utenti per fare qualcosa. Cioè dato un tema ciascuno dovrà esibirsi e magari sfidare la community a chi è più bravo, più creativo, più performante. In qualche modo quindi si offre un enorme patrimonio di creatività alle aziende che TikTok sarà abile probabilmente a distillare per singoli mercati così facendo tesoro anche da un punto di vista economico di questo flusso di contenuti che noi tutti postiamo. Inoltre i brand dovrebbe interessare molto la penetrazione in un segmento generazionale al quale non è facilissimo accedere anche per la crisi, chiamiamola crisi, di alcuni social più tradizionali come possono essere Facebook, Twitter, Snapchat. Ma insomma il tema centrale è quello dei video. I video sono lo strumento migliore per fare storytelling. Già oggi i dati dicono che l'80% delle informazioni che a vario titolo circolano online sono dei video ed è quindi chiaro che mixando questi ingredienti, strumenti di editing sempre più raffinati, un'intelligenza artificiale di altissimo livello, un algoritmo super performante si crea quella che sembra oggi, non vorrei dare sentenze per il futuro, una macchina perfetta molto molto amata sulla quale da studioso dei consumi e dei consumatori provo a fare alcune riflessioni che vadano oltre il fenomeno sociologico che è già oggetto di approfondimenti. In questo mi venuta un'inchiesta molto interessante che vi invito ad andarvi a leggere del New Yorker che approfondisce alcuni aspetti un po' inquietanti di questa piattaforma che io provo a leggere dal lato dei consumatori. Il punto di partenza della riflessione riguarda l'assofazione. Evidentemente l'abilità dell'algoritmo è tale a creare davvero un attaccamento molto forte a questi contenuti. Si entra direi quasi in una dimensione parallela e anche quando il video è estremamente banale c'è sempre un motivo per trovarlo divertente. Fin qui nulla di male, anche se a differenza di altri social network dove la richiesta di amicizia in qualche modo indirizza i contenuti che mi vengono riversati addosso, su TikTok anche se si può seguire determinati profili il feed ti viene incontro in una maniera talmente naturale da lasciarci davvero sorpresi. Insomma potremmo dire che se i social tradizionali sono stati costruiti, pensiamo a YouTube, per farci vedere qualcosa TikTok sembra costruito benissimo per non farci guardare altrove. C'è come sempre il tema della gestione dei dati che queste piattaforme raccolgono e quando è stata interrogata su questo aspetto la società proprietaria di TikTok che si chiama ByteDance ha risposto che sì i dati servono e soprattutto le immagini ad allenare l'intelligenza artificiale ma che non c'è nulla da preoccuparsi rispetto alla videosorveglianza così sviluppata in Cina, bensì gli algoritmi stanno studiando nuovi tool, nuovi strumenti di editing che consentono di montare sul mio avviso un trucco particolare e tanto più questi sono efficaci naturalmente tanto più l'utente è spinto a giocare e ancora una volta a restare sulla piattaforma. E se tutto ciò può apparire innocuo oggi forse dal punto di vista di chi si occupa dei consumatori potrebbe non esserlo domani quando l'app come probabilmente farà deciderà di vendere e di trasformarsi in un luogo di e-commerce. Un percorso intrapreso già da Instagram dove si potrà comprare con un click ed è bene se noi siamo abituati a restare dentro TikTok, veniamo coinvolti in questo rullo, in questo flusso continuo di immagini e domani si potrà magari comprare direttamente sulla piattaforma non so forse qualche preoccupazione potrà avvenire dallo stato non dico confusionale con il quale saremo chiamati a comprare ma insomma forse qualche attenzione in più dovremmo averla. Soprattutto perché non dimentichiamo io vi parlo da adulto ma quella è una piattaforma nella quale troviamo molti giovanissimi ed è chiaro che nella fase della crescita tutti questi influssi rischiano di essere più pericolosi per l'utenza. Tra l'altro TikTok è stata già condannata negli Stati Uniti proprio per un indebito sfruttamento dei dati dei minori, questa è un'app 12 più quindi alla quale ci si dovrebbe iscrivere avendo almeno 13 anni e il rimprovero che è stato fatto negli Stati Uniti è che nessun controllo fosse fatto sui minori di 13 anni che pure postavano contenuti senza che fosse stato informato alcun genitore. Venendo in conclusione alle accuse che sono state mostre a questa piattaforma è chiaro che dobbiamo tenere presente che si tratta di un player dalle potenzialità enormi al quale quindi si cercherà in qualche modo di rendere la vita difficile. Io da avvocato dei consumatori non mi interesso della lotta concorrenziale tra questi giganti che a volte è anche fatta di colpi bassi. Ma quel che è certo è che in India ad esempio è stato bloccato per qualche mese salvo poi riabilitarlo quando l'app ha promesso ingenti investimenti sul territorio. Qualcuno ha detto che in Cina TikTok sarebbe autore di alcune manovre di censura nei confronti di contenuti non graditi al governo di Pechino. Quanto al futuro per raccontarvi ancora una volta l'impatto che un soggetto del genere avrà sul mondo digitale si pensa addirittura che TikTok sia studiando la possibilità di produrre un suo smartphone dove installare pre-installare tutte le app del gruppo che sono app che hanno a che fare non soltanto con le piattaforme di video ma anche con piattaforme di notizie e persino app che assomigliano un po' a Spotify. Quindi insomma si attende lo tsunami TikTok. Quello che mi sento di dire in conclusione è che davanti a questi fenomeni dobbiamo evitare di farci guidare dai pregiudizi. È chiaro che si tratta di soggetti chiamati a fare una certa sperimentazione e ai noi la sperimentazione più forte, più rapida, più veloce la si fa con i giovanissimi e da questo punto di vista senz'altro non possiamo non considerare questo aspetto che è foriero sicuramente di alcuni rischi. Il primo è quello degli eccessi ma vale per tutti i fattori della nostra esistenza anche offline e quindi l'attenzione per i più giovani, per i consumatori più esposti, per quelli meno maturi e meno capaci di decidere per sé è qualcosa che dobbiamo ribadire ogni giorno e per certi versi la storia di TikTok ci racconta già di una sua prima evoluzione. Dal lip sync di Musical.ly a oggi molte cose sono cambiate. Se è vero che in quella fase i contenuti erano davvero di ostentazione narcisistica, di emulazione di un bello molto codificato, oggi la varietà degli strumenti di editing ci consente davvero di dare spazio ad una creatività importante. È la creatività dei più giovani, è un valore straordinario della nostra società, è chiaro che business is business ma l'attenzione che TikTok sembra almeno dichiara di voler rivolgere a quelli che chiama creator è un valore straordinario. Non sarebbe la prima app a tradire grandi proclami di etica e di attenzione per il pubblico dei consumatori ma la mia speranza è che rispetto ai primi esperimenti forse tutto l'ecosistema digitale possa dirsi più maturo e forse aver imparato dalle esperienze anche sbagliate fatte da questi giganti. Insomma è l'evoluzione alla quale non possiamo rinunciare.